Ehi, posso offrirti da bere? Mmm, grazie. Sai, lo devo ammettere, è meglio che ha le figi. Sì, chi le vuole le figi? Abbiamo il Krakatoa. Scheggia! No, ha soltanto sete. Su, andiamo a prendere dell'acqua. Cosa? Cosa? Ehi, ehi! Non abbiamo ancora controllato l'isola. Non fa niente. Io scheggia. Ah, beh, allora mi sento meglio. Ma che... Marina! Simba! Diciclopi! Oh, no, di nuovo. Signorina, mi salvo io! Salviamo l'ercio. Certo. Dritto! Dicca! 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 La prossima volta scelgo io dove si va in vacanza Accordato Qualche posto del Mediterraneo Sono d'accordo Che so, tipo Roma, ma meno affollato Ci sto Trovato Pompei Pompei sia Bravo, Schettia Grazie a tutti Grazie a tutti